Ti faccio una domanda che riguarda anche il gesto che hai appena fatto. Subito personalità, l'abbiamo vista oggi in campo, a parte il gol. C'è bisogno di questo tipo di giocatore, di questo tipo di approccio per salvare il nostro pezzo? Sei d'accordo? Buonasera. Io penso che non vengo a salvare nessuna squadra, perché ho visto oggi, in questi due giorni che sono stato qui, una squadra che propone, una squadra che è forte, una squadra unita. Da questa partita penso che si deve ripartire, per questo io non penso che vengo qui a salvare nessuno, nessuna squadra. Alla fine il Brescia è una società storica e dobbiamo lavorare duro per uscire questi mali risultati che alla fine stiamo pagando, però sicuramente da qui dobbiamo ripartire. Benvenuto, complimenti per la prestazione di oggi, perché veramente hai portato una vintata di novità, di qualità, di personalità, di insomma anche il collega. Tu sai che Eugenio Corini è uno di noi, nel senso che il Bresciano, è colui che ha guardato il Brescia tutta la volta in Serie A nel 2019, quando parla di pelli si illuminano gli occhi, perché lui ancora sostiene, non so come un giocatore così possa giocare in Serie B o non trovare posto in una squadra addirittura importante, perché già dopo il primo anno tu a Lecce arrivi anche a offerte la squadra che comunque sembra ti seguisse una squadra importante di Serie A. Cos'è successo poi nel frattempo, perché ti sei un po' perso? Squadra, domanda lunga e domanda che non volevo rispondere. Penso che mi piacerebbe anche parlare più della partita, della squadra e già dopo. e quando, che è sicuro che faremo bene, magari ti rispondo alla prossima. No, non è successo niente, alla fine sempre ho lavorato per trovare l'espazio, per avere più opportunità e sono venuto qui per questo, anche per ritrovarmi un po' personalmente, però anche per darle un aiuto alla squadra, a questa squadra che, come sto dicendo, può stare in alto. Per questo, anche se non è venuto qui, perché mi hanno parlato molto molto bene di Brescia. Ciao, benvenuto. Hai dato sicuramente una grande risposta a livello di carattere, ma anche a livello di calcio giocato. Hai preso una traversa e hai fatto un gol. Come le hai vissute dal campo queste due azioni? Peccato per la traversa, perché alla fine questa occasione è sbagliata, l'abbiamo pagato dopo nel risultato e penso che dobbiamo essere più cattivi e decara alla porta e chiudere le partite, come l'abbiamo fatto oggi sicuramente o come l'ho fatto io oggi, in questa traversa, però niente, dobbiamo lavorare per trovare più cattiveria e sottoporta. E però voi hai fatto un bel gol? Sì, però no, l'abbiamo vinto, è quello che importa alla fine. La squadra è sempre lo che importa. Ciao a me. Grazie. Ciao. Ciao. C'è un po' di un perchiere in un giornale di Brescia e hai detto, mi hanno parlato ben in molti di Brescia, tra questi c'è anche Bjorken, perché un po' di voci dentro le quinte ci dicono che anche lui abbia avuto un po' un'incidenza sulla tua scelta, è vero? Che ti ha raccontato di aver avuto un ottimo impatto con Brescia e che anche questo abbia in qualche modo indirizzato la tua decisione di dire sì a questa squadra. Sì, lui è anche arrivato prima e mi ha parlato anche molto bene della squadra, della città, della società, però io anche ho chiesto due o tre cose solo che alla fine quello che mi importava era il calcio, come stava la squadra e alla fine. diciamo che non me l'ho pensato tanto per venire qui, perché uno mi stava dicendo, mi hanno detto due o tre cose che ho dovuto che venire subito, perché anche mi volevano tanto e anche per questo sono venuto qui. Ottimissima, ma di carattere tattico, ti aveva visto giocare da seconda punta, trequartista, insomma molto fluida come interpretazione. Dove ti trovi meglio? Immagino lì, ma all'occorrenza ti senti anche in grado di fare il riferimento unico da ieri per gli altri, cioè ti senti in grado di fare il tuo ruolo o non te lo senti tanto addosso? Io, come sempre dico, mi considero un giocatore di attacco, quello vuol dire sia a sinistra, trequartista a sinistra, trequartista a destra, sinistra a destra, attaccante, mi considero un giocatore di attacco, per questo non tengo nessuna preferenza. Grazie. Grazie. Mi ha dato tanto, mi ha dato l'estare qui oggi e l'essere professionale. Ho imparato tanto là di tutti gli allenatori, di tutti i giocatori, che alla fine è una fortuna per me il potere vivere questa esperienza, alla fine io lo chiamo esperienza, perché mi ha dato quello che sono adesso, la personalità che tengo adesso, anche il carattere vincitore, e questa attitudine che è questa attitudine che alla fine di non volere mai. Per questo è un'esperienza che è un'esperienza che è un'esperienza. Grazie. 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 Grazie.